Puoi accedere al questionario dalla home page del sito www.http.sensimentoindustriaservizi.istat.it nella barra di navigazione di destra. Per accedere al questionario online e iniziare la compilazione, hai bisogno di un codice utente e una password. Il codice utente è indicato in basso a destra sul questionario cartaceo oppure sulla lettera informativa per le imprese per le quali è prevista soltanto la compilazione online. Per ottenere la password di accesso al questionario, occorre attivare l'utenza. La procedura è molto semplice. Dovrai avere un indirizzo di post elettronica attivo al quale ti verranno inviate le comunicazioni. Nella pagina di accesso al questionario, clicca su Richiesta attivazione, in alto a destra. Inserisci nello spazio predisposto il codice utente e un indirizzo e-mail valido. Digita nel campo Controllo di sicurezza il codice che visualizzi nell'immagine sottostante. Se necessario, puoi generarne uno nuovo o ascoltarlo cliccando sugli appositi pulsanti. Clicca su Attiva. Nella casella di post elettronica che hai indicato, riceverai un messaggio con oggetto Richiesta attivazione utenza. Vai nella casella di posta e verifica di aver ricevuto il messaggio. Il messaggio riporta il tuo codice utente e contiene il tuo codice di attivazione. Se non ricevi l'email con i codici e il link di attivazione, controlla che il messaggio non sia finito nello spam. Puoi accedere direttamente alla pagina di attivazione cliccando sul link personalizzato. I primi campi sono già compilati. Se non lo fossero, inserisci manualmente i tuoi codici e la tua e-mail. Scegli la tua password secondo le indicazioni, digitala nuovamente per conferma e inserisci il codice che visualizzi nell'immagine sottostante. Quindi clicca su Attiva. Ricorda che la password ti servirà per gli accessi successivi. Ora puoi iniziare a compilare il questionario. Il prossimo video ti spiega come funziona la compilazione.